Dalla Santa Casa di Loreto, trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dalla Santa Casa di Loreto, preghiamo l'Angelus e del Santo Rosario, in comunione con coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina degli Apostoli, per Papa Francesco, per i Vescovi e per tutti i sacerdoti e i diaconi. L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria e della concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu chi ha l'annuncio dell'angelo ci fai contemplare l'incarnazione del Verbo. Concedi che, mediante la sua passione morte, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ave, piena di grazia. Ave, Vergine Maria. Ave, piena di grazia. Ave, Vergine Maria. Meditiamo oggi i misteri della luce. Nel primo mistero, il battesimo di Gesù al Giordano. Pater nostre, qui es in cielo, santificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nostra malo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi, lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Secondo mistero, il miracolo alle nozze di Cana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi, prega per noi, lodato sempre sia in Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Terzo mistero, l'annuncio del Regno di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, prega per noi, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, prega per noi, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, 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 prega Dio prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, nei secoli. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. ma liberarci dal male. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, il Seigneur est avec vous. Vous êtes benie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, è beni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, il Seigneur est avec vous. Vous êtes benie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, è beni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, il Seigneur est avec vous. Vous êtes benie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, è beni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes benie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, è beni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, et je vous salue, Marie, pleine de grâce, le fruit de vos entrailles, è beni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes benie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, è beni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes benie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, è beni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes benie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, è beni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes benie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, è beni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte, Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Quinto Mistero, l'Istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Hey Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Hey Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Hey Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Hey Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Hey Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Hey Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Hey Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Hey Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Hey Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Maria, Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulce do, estes nostra salve. A te clamamus, ensur est filiebe. A te suspiramus, gemetes et plentes, in aglarinarum vale. Eia, Herbom, Advocata nostra, in los tuos misericordes oculos, ad nos converti, et Jesu benedictum fruttum ventris tui, nobis, post hoc esilium ostende. o clemes, o pia, o dulcis virgo Maria. Signore e pietà, Cristo pietà, Signore e pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergine, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre di Misericordia, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre della Speranza, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi, Madre sempre Vergine, prega per noi, Madre Immacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre del Buon Consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori. Conforto dei migranti, Consolatrice degli afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede. Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace. Prega per noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione della Beata Vergine Maria, salvaci dai mali che ora ci rattristano, e guidaci alla gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amén. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amén. Preghiera alla Vergine di Loreto. Maria, Madre della Chiesa, che in questa Santa Casa, con il tuo sì, hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici, per mezzo di Gesù, lo Spirito della verità e dell'amore, e portaci nel cuore del Padre, sotto la tua protezione. Cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. E per intercessione della Beata Vergine Maria, il Signore Dio Onipotente, faccia scendere la sua benedizione su di voi, sui vostri cari, in particolare i malati e le persone più fragili. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Vindiamo grazie a Dio. Ave Maria. Ave. Ave Maria. Dona dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis. Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. Donna di frontiera e madre del ardore, ora pro nobis. Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. Ave Maria. Ave. Ave Maria. Ave. 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 La Fiamma La Fiamma